Qui vi presentiamo le 5 migliori esposimetri. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Luxmetro digitale gamma fino a 200,000 Lux. L'intervallo di misurazione di questo Luxmeter sale a 200,000 Lux, con risultati estremamente accurati. Ha un prezzo d'azione elevato in modo da poter essere sicuro di ottenere recensioni sia veloci che di alta qualità. Lo schermo LCD colorato a 4 digitali consente una facile visualizzazione delle misurazioni. Funziona con 3 batterie AA da 1,5V, in dotazione, è creato per risparmiare energia si spegne dopo 15 minuti di non utilizzo. Passando al numero 4. Illuminamento Luxmetro digitale professionale. Si tratta di un Luxmeter digitale adatto alle più svariate applicazioni, in istituzioni o luoghi di lavoro, in famiglia come nel settore, nei magazzini, nei laboratori e altro ancora. Ha un spettacolo LCD con caratteri di grandi dimensioni, che aiuta in una facile analisi dei dati rilevati. La RAI di dimensioni è 0,1 200,000 Lux, 0,01 20,000 FC, con una precisione 4%. Collabora con una batteria da 9V, che consiste nella gamma di spedizioni. Ha una funzione di spegnimento automatico che si attiva dopo 15 minuti di non utilizzo. Poco per dimensioni e luce, è semplice da portare per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. TKMOON HS1010 Digital Pocket Luce Meter. Questo dispositivo utilizza un alto grado di precisione, con una varietà di misura di 2000-2000-2000 Lux. Il display LCD digitale consente una lettura ottimale del 1999. Il feedback spettrale è C-Fotopic C-Fidback Curve Opti Persone IE. Il rilevatore di foto è un fotodiodo di silicio con un filtro. Molto leggero, valuta 100 grammi e può essere piacevolmente trascinato in una tasta. Almostat è top of our list at number 2. DR.meter lux metro digitale gamma fino a 200,000 Lux. È un lusso con un'enorme varietà di misura e con numerose funzioni. Può misurare da 0 a 200.000 Lux e può essere messo su Luxofot Candle semplicemente premendo un pulsante. Si occupa di una batteria da 9V consistevo nel pacchetto insieme all'istanza Brink, che dura almeno 200 ore. Varie altre caratteristiche includono conservazione dei dati, ripristino automatico, indicatore di overflow, visualizzazione delle unità e segno di polarità per facilitare... E infine il numero 1 della nostra lista. Second XL308 S flash matte esposimetro. Questo misuratore di luce elettronico, con il suo peso e le sue dimensioni ridotte, è adatto per letture con flash e luce continua, evento e specchiata. Fornisce dimensioni per la luce flash, con o senza cavo di sincronizzazione, con priorità dell'otturatore o dell'apertura, nonché la misurazione EV per la luce ambientale. Assume una nuovissima unità di rilevamento amorfo come componente di misurazione della luce. Il sistema per la sostituzione dei tappi per l'analisi incidente o riflessa è incorporato come diapositiva nel misuratore di esposizione. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.